A distanza di appena 90 giorni, grazie ad un provvedimento urgente, riapre il borgo di Crognaleto. I lavori urgenti per la messa in sicurezza del versante roccioso a ridosso del paese sono a buon punto, tanto che questa mattina l'amministrazione comunale, di concerto con la struttura tecnica, ha deciso di togliere simbolicamente le transenne con una cerimonia di riapertura del borgo, chiuso dallo scorso 29 agosto a causa del sisma che ha distrutto amatrice e che ha comportato uno squilibrio nel versante roccioso che sovrasta il paese con caduta di massi, un pericolo che aveva spinto il sindaco Giuseppe D'Alonso a chiudere gli ingressi del paese e sgomberare 50 abitazioni e 16 residenti. Oggi abbiamo fatto questo momento, questo gesto, questa apertura del paese proprio in maniera ludica con le persone alle quali abbiamo tolto il loro bene primario. Oggi io vedo negli occhi di quelle persone che ho visto il 29 diciamo con poca fiducia, oggi vedo il sorriso di coloro che apprezzano e riprendono la fiducia nell'istituzione. Questa è la cosa più bella che può diciamo rilevare un sindaco, che può rilevare un'amministrazione. Il comune ha ancora le prese con i danni ingenti provocati dai terremoti che si sono succeduti nelle scorse settimane e per giorni è rimasto isolato a causa dei problemi statici al ponte di Aprati. Il primo cittadino ha ringraziato le istituzioni e i suoi concittadini che in questi mesi hanno sopportato grandi disagi dovuti alla situazione di emergenza.